cari amici di auto occasioni ben ritrovati eccoci di nuovo insieme per uno splendido appuntamento uno di quegli appuntamenti che io so che amate particolarmente perché rendiamo i vostri momenti più belli portandovi a vedere tutte le meraviglie della regina delle concessionarie della regina del risparmio ovvero queen car e in particolare sono nella sede di torino in corso grosseto 18 possiamo scegliere tra più di 500 vetture in pronta consegna dopodiché ci permette di acquistare la vettura adesso e di pagarla quando i tempi saranno un pochino più tranquilli ovvero nel 2027 no 2023 che è già tanto e poi in più qui da queen car possiamo godere ancora degli incentivi di rottamazione fino a 8000 euro e poi vi parleremo di una formulina che rende gli acquisti ancora più belli ancora più facili che si chiama evergreen tutto ciò naturalmente grazie a colui a cui dobbiamo davvero tanto lo scettro va assolutamente a te ovvero fabrizio ciao fabri ciao a tutti ben ritrovati vi aspettiamo numerosi con l'operazione evergreen risparmiate 2000 euro dal prezzo di vendita non dovete tirar fuori contanti 10.000 20.000 30.000 euro per acquistare un'autovittura ma dei piccoli canoni mensili che scegliete voi a partire da 119 euro al mese 129 euro al mese 169 euro al mese o 199 euro al mese per tre anni dopo tre anni scegli la tua nuova auto quindi cosa aspettate venite qui alla queen car in corso grossetto 18 con l'operazione evergreen risparmi fino a 2000 euro dal prezzo di vendita io dagli schermi vedo già proprio gli occhi brillare quindi a questo punto fabrizio mostriamo tutte le meraviglie che questo mese avete selezionato per noi iniziamo subito pronta consegna chilometro zero panda 1000 hybrid esenzione bollo allestimento sport pensate con tutto di serie cerchi lega addirittura le pinze rosse full optional attenzione al prezzo 159 euro al mese tutta la gamma delle panda in pronta consegna perché aspettare quattro mesi venite qui pronta consegna a partire da 119 euro al mese versione van oppure addirittura in prota consegna la 1200 easy power gpl attenzione al prezzo a soli 139 euro al mese tutta la gamma fiat 500 in prota consegna versione 1000 hybrid esenzione bollo 1200 gpl tutte in prota consegna a partire da 149 euro al mese tutta la gamma 500 l in prota consegna allestimento cross full optional 1400 benzina o 1400 benzina e gpl pensate con l'operazione evergreen tua da 199 euro al mese tutta la gamma 500 x in prota consegna a partire da 169 euro al mese tutta la gamma abart in prota consegna 595 allestimento turismo o pista a partire da 249 euro al mese tutta la gamma lancia y in prota consegna a partire da 159 euro al mese ibrida gpl pronta consegna tutta la gamma fiat tipo station wagon 5 porte tutte in prota consegna a partire da 159 euro al mese alfa stevio pronta consegna vettura aziendale a partire da 349 euro al mese jeep compass 1600 multi jet allestimento limited chilometro zero 349 euro al mese esenzione in bollo incredibile jeep compass 4x in prota consegna allestimento full optional a partire 299 euro al mese tutta la gamma renault in prota consegna parliamo di renault cagiaro versione full optional 249 euro al mese Volkswagen Golf 1600 turbo diesel allestimento business a partire da 199 euro al mese opel crossland 1.2 turbo benzina attenzione al prezzo 169 euro al mese tutta la gamma peggio 208 in prota consegna con l'operazione evergreen 169 euro al mese non solo vetture aziendali ma vetture premium bmw x1 a 299 euro al mese tutta la gamma pc 3008 1.2 turbo benzina 1.5 turbo diesel in prota consegna a partire da 249 euro al mese sempre vetture aziendali premium un bellissimo bmw x2 allestimento full optional a soli 349 euro al mese tutta la gamma mercedes gla in prota consegna a soli 349 euro al mese tutta la gamma audi a3 1.6 turbo diesel cambio automatico attenzione al prezzo a soli 249 euro al mese tutta la gamma mini counterman allestimento plug in hybrid esenzione bolla attenzione prezzo 299 euro al mese tutta la gamma citron c3 in prota consegna a soli 159 euro al mese tutta la gamma mercedes classe a in prota consegna vetture aziendali a partire da 249 euro al mese diversi modelli prota consegna e se non avete visto il modello che cercate venite qui personalmente 500 auto vetture in prota consegna che puntata ricca fabri davvero degna di colei che continua a confermarsi la regina ovvero queen car a questo punto non vi resta che venire di persona è vero fabrizio sì perché qui vi aspettano 400 auto vetture tutte in prota consegna con gli incentivi di rottamazione fino a 8 mila euro ma soprattutto con l'operazione evergreen vi aspettiamo continuate a seguirci un saluto carissimo da parte naturalmente di queen car auto occasioni fabrizio e federica carissima